Ciao ragazzi! Allora, il video di oggi è una challenge, credo, è della Head Up, sulle scuole che l'avete già vista, non so bene com'è il titolo in italiano, però vabbè, questa è Megan, la conoscete già, ciao, questa è la Fran! Let's do it, let's do it! Allora, la Meg è lì e avrà il telefono sulla fronte e noi dovremo cercare di farle capire tramite mimare, ecco, tramite il mimare non è italiano, tramite il mimo, cosa c'è scritto lì sopra? Allora, la categoria è Act It Out, let's do it! Scannare la montagna, appena l'armaglio, appena la porta, argue la finestra, non fare, per più o meno Guardarsi intensamente negli occhi, stare tornate erano Guardare si, guardare, si, guardo Passare! Passare! Lavarsi i denti Vomitare? Pesci? L'acqua lì E mouthwash Pronto Meg? Ballare, saltare Non state ballando Scusate Oh, sentite la pasta Firmare gli assegni Rilassarti Giocare a baseball Si One Direction Cantare sotto la doccia Cantare sotto la doccia Non siamo più Anche io Tradimento Si Il cuore è pezzato Dai, ne ho indovinate Cinque Bella Grand Bella che abbiamo capito di fare Sembro più Più bassa ancora di quello che sono Bene di settarsi Perché si è a settare Esatto Meritare Muratore Martellare Sto facendo qualcosa Ok, si 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 Stai Cos'è che devi costruire una casa? No, io cosa sono? Cosa stai facendo? Stai a piedi d'occhio? Pulci Cosa stai facendo? Passa la pastata Cosa stai facendo? No Cambio Fatto A scuola della musica Effort and Si Si Devemmo essere più bravi Esatto Esatto Ci sta con il tempo Esatto Mambrello Che cosa abbiamo fatto? L'abbiamo? Aperto Rappicarsi sugli armi Sì 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 C'è giusto Rompere qualcosa Si Cosa rompi? Cosa rompi in cucina? Tante cose Le uova Le uova Non rompi i piatti Esatto No Esatto Si Let's get ready Dormire Lassarsi Svegliarsi Sì Fare le bolle di sapone Soffiare Sì Ah Scoppiare un palloncino? Si Passo Ma no Mettessi il profumo Sì Vabbè Avete panciato bene No Ma si pancia No Mangiare le caramelle No Pasta Ho fame Cos'è? Ballare La salsa Più o meno Zumba New round My turn Let's go Frisbee Ah il bovenger Sì Magician Sì Blackjack Asset poker Dalle carte Sì Relax Dormire Sì Si confonde No Sì Ok No Tuffarsi No Skydiving Sì Che cos'è Accendere un No Sta tenendo qualcosa Ok La bandiera No Si Ah l'ha passato No Hai messo corretta No Ma io sono basta qua Di qua Almeno siamo in scala Più o meno Ok ragazzi Spero che vi sia piaciuto il video Andate a cliccare sul canale della Fra Perché Da poco ho aperto un canale YouTube Ed è wow Grazie Andate Abbiamo fatto un video sul mio canale Ecco Abbiamo fatto la Whisper challenge Challenge Se volete le consigli sull'Expo Andate sul mio Ecco La mega sub blog sull'Expo Quindi Se non ci siete ancora andati Andate E ci vediamo al prossimo video Ciao Andiamo 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 andiamo